In posizione. Sì. Indietro. Tutto pronto? Pronto. Su, cominciamo. Libera! Possibile che io sia morto. Ascolta, Yusuke Urameshi. Intendo riportarti in vita. Per diventare un detective del mondo degli spiriti. Fornerai in vita, per cui immagino che accetterai. Ho capito che ci sono persone che credono in me. Io li proteggerò fino alla fine. Toguro. Ho un incarico da assegnarvi. Spero si tratti di un incarico... ...interessante. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.